Benvenuti nel canale Juventus Oggi. Il miglior canale di notizie della Juventus su YouTube, iscriviti al canale per non perderti nessuna novità dalla Juventus. La Juventus ha speso molto in questa sessione di mercato, e ora Giuntoli sta pianificando un accordo senza pagare per il trasferimento. Il mercato dei trasferimenti si è chiuso in Italia, ma Giuntoli sta già pensando al futuro, a giocatori il cui contratto scadrà nel 2025. Il primo nome è Danilo Doecchi, per il quale anche l'Inter è interessata. Danilo Doecchi è un difensore olandese di 26 anni che gioca per l'Union Berlino dal 2022. Presto, Doecchi potrebbe firmare un precontratto, e Giuntoli sfiderà Marotta per l'acquisto dell'olandese. A mio avviso, Doecchi non è un buon rinforzo. L'olandese è un difensore mediocre, ci sono altri difensori più interessanti.